Ci saranno sicuramente degli altri arrivi, intanto nella città metropolitana, in maniera diffusa tra tutti i comuni e quindi prima di arrivare ad integrare i numeri dei ragazzi sandonatesi, gli altri comuni dovranno fare la propria parte. Se noi abbiamo fatto la nostra parte devono fare tutto. Sicuramente, anche per evitare i fenomeni eccessi che ci sono stati, leggi quello che è avvenuto lo scorso anno a Eraclea Mare piuttosto che sta avvenendo in questi giorni a Conetta di Cona. L'arrivo di profughi è un fenomeno con cui si dovrà continuare a fare i conti volenti o nolenti e se ogni sindaco del veneziano avesse abbracciato il principio dell'accoglienza diffusa, le conseguenze di tanti arrivi sarebbero state meno traumatizzanti per tutti. Alle idee chiare Andrea Cereser, sindaco di Sandona di Piave, nel suo comune i profughi sono 40 e problemi, afferma, non ce ne sono. A parte i corsi di italiano che fanno i fini dell'integrazione, alcuni si sono resi disponibili per attività di volontariato all'interno di parchi, altri hanno partecipato alle attività della Croce Rossa, altri collaborano ad esempio alla mensa solidale che abbiamo in Sandona di Piave, altri si sono integrati in altre forme, ad esempio con società sportive nella fattispecie del calcio. Dalle partite di pallone al volontariato della Croce Rossa, Sandona rivendica un modello al quale dovrebbero uniformarsi anche gli altri comuni. Se ci fosse stata sin da subito una disponibilità da parte di tutti i comuni, non saremmo arrivati a quel risultato. Dopodiché è chiaro, ognuno cerca di guardare solo il proprio orticello, ma in realtà se questo avviene nel comune che è confinante al mio, è chiaro che poi alla fine crea dei problemi anche alla mia amministrazione. Quindi l'invito che ha fatto la prefettura, ma che è stato anche ribadito in diversi incontri con i sindaci, cioè di distribuire in maniera uniforme le persone, va sicuramente rinnovato. Grazie a tutti.